A come... Alla quinta multi dopo 250 Dragon Stones Preparatevi Drunk Seller B come... Broly Super Saiyan di terzo livello Broly Super Saiyan di terzo livello Che come... Che stiamo combinando B come... Dragon Ball Z, Doc and Battle, versione global All'interno del nostro account principale E come... E te pareva? Io non ce la faccio E sta diventando un meme Basta F come... Felicia G come... Goku Quarto d'Ability 2 Goku Quarto d'Ability 2 H come... I come... Il trio del sommo culo In onore di Priscilla L come... L R Merged o Fused Zamasu N E Non è impossibile! Che... Non è... Non ci credo Io no... No, 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 no Non ci credo Non ci credo mai Io, io, non ci credo mai Non ci credo mai Ad 800 Dragon Stones Però Però Qualcosa di cacca Qualcosa di pura cacca Il rate up Ok si possiamo dirlo E' leggermente il rate up Sacco buona Ma com'è sta sacco Tranks rage in realtà No Tranks rage Un'altra coggeta hint Oddio Oddio Non spacchiamo tutto Nuova sigla Fumetti fanti Papara papà Fumetti fanti Papara papà Broni Broni It was at this moment He knew He fucked up Broni Ecco l'alfabeto Ora tocca Broni All'interno del nostro account principale Horvato Broni Broni Asp �裡 Mentor Accompr overwhelming Avie Broni And ills kend